Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Dai che oggi è il 7 di dicembre, quindi domani è festa. Incrociate l'It anche per me. Stasera ho il tampone di controllo, spero di risultare negativo per potermi godere almeno l'8 di dicembre in giro in Santa Pace, invece che recluso in casa, ancora positivo, mai più di una settimana. Ma questo non vi interessa, voi volete sentire parlare di Juventus e io voglio parlarvi di Juventus. Prima però voglio spendere due paroline lato mondiali perché ieri si sono giocate due partite abbastanza clamorose, nel senso che il Marocco è riuscito a eliminare la Spagna ai calci di rigore. Ieri ci siamo guardati su Twitch la serie di rigori. Il portiere del Marocco ha fatto qualcosa di allucinante dagli 11 metri. Non ricordo una prestazione così elevata di un portiere in una fase di eliminazione diretta. Veramente le ha prese tutte. Il Marocco si è anche permesso il lusso di sbagliare un rigore, ma questo è stato un influente ai fini del risultato perché veramente il portiere ha fatto qualcosa di incredibile, di incredibile e di leggendario che entra di diritto nella storia. Tra l'altro ieri ho avuto tantissime macchine che giravano intorno a casa con il clacson perché si vede che ci sono tantissimi tifosi del Marocco anche qui da noi. Qualcosa di allucinante. La prima vera grande sorpresa che lo era già, ma si conferma perché butta fuori una squadra che il campionato del mondo l'ha già vinto, come la Spagna di Luis Enrique. E mi dispiace perché per la Spagna avevo una piccola simpatia. Però il Marocco merita di andare avanti e quindi sono gasato per vedere fino a quando, fino a dove possono arrivare. E dall'altra parte il Portogallo di CR7 con CR7 in panchina esplode in un 6-1 alla Svizzera. Devo dire la verità, qua un po' godicchio perché la Svizzera e i mondiali c'è andata al posto nostro e in più di un'occasione ci avevano un attimo presi in giro dicendo ci siamo noi al posto vostro. Queste qua fanno parte del gioco, così come fa parte del gioco del fatto che io un pochino possa godicchiare del fatto che loro siano usciti. Quindi ora abbiamo otto squadre all'interno della Coppa del Mondo. Abbiamo alcuni giocatori della Juventus, ancora in particolare per quanto riguarda le sudamericane, Brasile e Argentina che potrebbero incontrarsi in semifinale e quindi potrebbe esserci una sorta di scontro di 5 giocatori della Juventus. Vediamo se effettivamente sarà così. Io vi ho già fatto il mio pronostico qui sul canale. Per adesso ho sbagliato soltanto Spagna-Marocco ma avevo detto che sarebbe stata una partita tirata e sapete bene che credo che alla fine vincerà la Francia. Vediamo se sarà così. In finale contro il Brasile dove comunque ovviamente poi può succedere di tutto però ad oggi mi viene da dire che sarà una roba di questo tipo. Allora, dicevamo, lato Juventus cosa si muove dato che un po' anche il titolo di questo video chiedo scusa per questi primi tre minuti introduttivi in cui ho voluto parlare anche un po' di altro Beppe Marotta. Beppe Marotta perché la notizia di oggi Marotta potrebbe tornare a Juventus a giugno. Allora, io non so nemmeno più quante volte l'abbiamo detta questa cosa un po' come Pogba potrebbe tornare a Juventus Milinko Vissavis potrebbe arrivare alla Juventus Marotta potrebbe tornare a Juventus Conte potrebbe tornare a Juventus Comera Allegri potrebbe tornare alla Juventus quindi capite bene che intanto là si dice poi può succedere Pogba e Allegri sono effettivamente tornati oggi Conte e Marotta non ancora Milinko Vissavis non è mai arrivato ma potrebbe arrivare quindi capite bene che c'è un insieme di possibilità positive e negative Io voglio ragionare un po' insieme a voi Io credo che tutt'ora, tutt'oggi Marotta sia forse il più bravo a fare il suo mestiere tra quelli presenti in Italia e che la figura di Marotta in questo momento alla Juventus non serva per un motivo c'è già una sorta di figura alla Marotta alla Juventus che arriva bene però arriva bene in questo momento si è dimesso alle deleghe per portare avanti questo lavoro probabilmente fino a giugno non lo so vediamo che cosa decideranno il CDA del 18 di gennaio però se poi arriva bene e dovesse uscire dal CDA della Juventus allora una figura di questo tipo sarebbe indispensabile perché Cherubini ha preso un po' il posto di Paratici arriva bene ha preso un po' il posto di Marotta è ovvio che se Cherubini viene confermato ma arriva bene no si libera un posto lì io credo che Marotta sia comunque oggi ancora il più bravo in Italia a fare il suo mestiere e credo anche che l'abbia dimostrato all'Inter nel senso che perché l'Inter arriva effettivamente a vincere uno scudetto perché viene ripristinato quel blocco Conte e Marotta e insieme sono riusciti a creare qualcosa di incredibile perché nel giro di due anni un anno arrivano a un punto dello scudetto l'anno dopo lo vincono e tra l'altro l'anno prima arrivano in finale d'Europa League il punto qual è? immaginatevi a giugno il ritorno di Marotta alla Juve che si porta dietro eventualmente già ancora Antonio Conte perché? perché Marotta va sull'usato sicuro quando deve ricostruire lo abbiamo visto ce l'ha dimostrato anche quando avviava Conte prende Inzaghi per dare continuità a quel processo di evoluzione dato che giocavano con lo stesso sistema di gioco e si cercava di voler andare avanti comunque anche l'Inter poi con Inzaghi due trofei gli ha vinti e lo sappiamo bene perché gli ha vinti in finale contro di noi non ha vinto lo scudetto l'ha perso l'ultima giornata però e vediamo cosa succede quest'anno anche se quest'anno è un po' più dura probabilmente per i nerazzurri però cosa succede? immaginiamoci questo scenario Marotta torna da Juventus si porta dietro Conte lo ritenete attendibile ad oggi? allora io posso dirvi sì e no lato allegri anzi non devo dire il più lato perché mi avete fatto notare che lo dico troppo spesso dal punto di vista di Allegri bisognerà ragionare qui stiamo proprio facendo dei discorsi e delle chiacchiere questa è proprio una chiacchiera da bar su Allegri non sappiamo cosa accadrà perché dipenderà molto da quello che sarà il nuovo progetto della Juventus però arriva Marotta compito di Marotta tenere i conti a posto tra virgolette e parlare alle telecamere non è quello di scegliere i giocatori Marotta non sceglie i giocatori Marotta via a determinate operazioni e di fronte alle telecamere va a parlare in determinati momenti della stagione prima delle partite un po' quello che fa arriva bene diciamo arriva e si porta dietro Conte Conte non è più quello della prima avventura alla Juve non è un allenatore che arriva e dice bene con quello che ho adesso qualcosina facciamo Conte ha raggiunto uno status internazionale perché ha vinto anche fuori dall'Italia in Italia l'ultima volta che c'è stato ha vinto se n'è andato da vincitore quindi Conte ragazzi Conte pretende pretende a livello salariale e già qui si apre una parentesi sul può effettivamente tornare Conte e soprattutto Conte pretende dal punto di vista degli ingaggi Conte gioca 3-5-2 o 3-4-2-1 bene però vuole i giocatori adatti arriva al Tottenham a stagione in corso la prima opportunità che ha Mercato Kuluseschi e Bentancur pagati comunque qualcosina quindi Conte pretende non è che dice vabbè quello che ho va bene no non è così assolutamente no perché nel frattempo Conte ha dimostrato che quindi non sarebbe più il Marotta Conte binomio del primo anno alla Juventus dove ci sono dei giocatori da valorizzare e altri poi da acquistare perché con Conte non si è acquistato così tanto si è preso Pogba parametro zero si è preso Asamoah si è preso Isla si è preso Llorente si è preso Tevez Pereira no Pereira è arrivato con Allegri mi viene in mente sti 5 giocatori Giovinco 6 mi viene in mente 6-7 colpi al massimo effettuati dalla Juventus con Conte ovviamente tolti i vari Vucinic Lichsteiner Pirlo che quelli sono arrivati l'anno in cui arriva Conte vi sto dicendo nel momento in cui Conte può effettivamente lavorare e capire dove migliorare la Rosa quindi mi vengono in mente questi ma sicuramente ad oggi un eventuale ritorno di Conte la Juventus questo non accadrebbe anzi non dimentichiamoci mai che l'addio di Conte nel 2014 nasceva si diceva da esigenze di mercato io voglio i turbe quadrado non mi dovete cedere Pogba e Vidal erano queste no le chiacchiere poi non sappiamo se sono verificate o meno però mi viene da dire ok la Juventus in questo momento ci sta dicendo noi abbiamo questo obiettivo da portarci avanti fino al 2025 cioè cercare di prima di mezzare il rosso e poi azzerarlo con l'arrivo di Conte e il ritorno di Marotto questo sarà possibile diventa molto complicato secondo me seguire questa linea molto complicata proprio per quello che dicevo prima Conte si fa pagare l'ultimo anno all'Inter prendeva 12 milioni di euro e pretende sul mercato gli ultimi 2-3 mercati della Juventus aggiungiamo anche quello invernale sono sempre stati autogestiti no internamente autofinanziati cessione bene allora si acquista attenzione perché in tanti in questi giorni mi stanno dicendo la Juve anche quest'anno con il discorso Bremer che sarebbe andato all'Inter ha inquinato il mercato e quindi la Juventus deve pagare per questa cosa la Juventus riesce a permettersi Bremer perché cede l'élite non dimentichiamocelo mai perché il discorso plus valenze che c'è stato in questi anni non è più così da un po' da quando è andato via Paratici Juventus non è più tornata nel discorso plus valenze quindi dal mercato di gennaio di Pirlo dove acquistiamo Rovella dove andiamo a fare quella plus valenza immediata con un giocatore che potevamo già tesserare gratis e invece andiamo a dare Portanova che ieri abbiamo letto tutti quello che è stato deciso non quello che è successo perché lo sapevamo già e Petrelli Juventus lì fa una plus valenza immediata piuttosto che prendere un giocatore a parametro zero proprio perché ha necessità di fare quella plus valenza lì entro il 30 di gennaio la fa tipo il 28 di gennaio perché lo fa? perché era in un corto circuito in cui la plus valenza diventava necessaria però badate bene perché poi le parole di Agnelli qualche mese dopo sono state chiare non è più un discorso di fare plus valenze perché con la plus valenza non dimostri effettivamente quanti soldi hai non è così abbiamo necessità di un bilancio vero perché è l'utile alla fine la ciccia grossa e la Juventus per dire nell'operazione Rovella ci perde dei soldi fa la plus valenza d'accordo ma ci perde dei soldi è un aggiustamento di bilancio la plus valenza ci perde due cartellini di due calciatori Rovella poteva firmarlo a zero senza problemi e sarebbe comunque rimasto al Genoa fino a giugno la Juventus lì ci ha perso dei soldi veri e la Juventus oggi ragiona sui soldi veri non sulla plus valenza non sull'aggiustare il bilancio perché oggi la Juventus sta scegliendo una linea più cauta si acquista se si cede o se si acquista poi bisogna cedere quindi in questo momento è un po' più complicato fare i sogni come va bene prendere Ronaldo Cancelo nella stessa sessione di mercato prendiamo Higuain e Pjanic perché prendi Higuain e Pjanic te lo spiegano le intercettazioni perché hai venduto Pogba però poi tutto quell'utile è stato spostato su altre due operazioni quindi non era più rimasto niente in cassa e da quel momento in poi sei costretto a inseguire le plus valenze fino a che non si arriva al punto che si dice basta ma lui dice basta prima di questa indagine Juventus dice basta perché si è resa conto che così non si poteva andare avanti e che bisognava un attimino dosare complice anche il covid ma si era già iniziato a sbagliare da prima quindi io sono molto contento di questa nuova linea dirigenziale che nasce nell'emergenza di non poter più gestire determinate errori del passato sì però anche una presa di posizione di consapevolezza che nasce da uomini che arrivano poi alla Juventus o che vengono promossi come Cherubini e arriva bene perché io faccio un po' fatica a giudicare in maniera negativa l'operato di Cherubini arriva bene quindi da quando arriva Allegri ovviamente lato mercato Cherubini arriva bene parla di queste cose qui faccio un po' fatica anche se tante volte mi sono ritrovato nella situazione di dire io una roba del genere non l'avrei fatta per dire io avrei rinnovato Di Bala far andare via Di Bala parametro zero per me è stata una cosa inspiegabile in una Juve di questo tipo ovvio che non sono d'accordo con tutte le operazioni che hanno fatto però sulla linea generale che hanno seguito da quando sono arrivati sì ora arriva bene probabilmente lascerà sì potrebbe arrivare Marotta magari sì e magari sì però allora non mi immagino Marotta con a fianco un allenatore come Conte che sarebbe indispensabile per la ricostruzione nel breve perché Conte è bravissimo a fare quello ma se questa è la nuova linea che deve seguire Juventus allora va scelto un allenatore in grado di lavorare con i giocatori che ha a disposizione perché sennò viene un po' a mancare quel ragionamento che vuole fare Juventus da qui al 2025 che sono poi due anni e mezzo quindi bisogna lavorare già nell'immediato perché sennò poi diventa complicato aggiungo che Marotta credo che sia sempre stato molto bravo a costruire squadre per l'immediato e quindi andare a prendere determinati giocatori come potevano essere appunto Pogba e Di Maria degli svincolati di lusso giocatori importanti gli paghi solo lo stipendio gli paghi solo la clausola i Guain Pjanic ma non il talentino non sempre almeno il talentino o il giocatore con un prezzo ancora abbordabile su quello ci pensava Paratici ma abbiamo sempre comunque poi pagato io credo che la Juventus non voglia più andare in quella direzione lì del giocatore ok giocatore ok giocatore ok quindi anche in questo caso poi Marotta dovrà cercare di evolvere questa sua visione un po' come è stato all'Inter i vari Sanchez Vidal che sono comunque stati giocatori richiesti da Conte poi sono rimasti lì cioè stiamo notando questa evoluzione rispetto agli anni precedenti dove quei calciatori li prendevi messi dentro un contesto che funzionava ti facevano quei due tre anni al top ti facevano pure vincere non determinanti e poi in qualche modo perché ricordo io mi ricordo tutti i giocatori che poi la Juve sono stati costretti ad andare via firmando a gratis e noi dicevamo ma come a gratis tipo Llorente io mi ricordo Llorente che va bene se ne va gratis Tevez che va bene se ne va gratis Pirlo va bene se ne va beh Pirlo era un altro discorso Tevez che viene messo dentro il discorso Bentancur che comunque poi vai a pagare dopo era difficile certi giocatori mollarli per via di ingaggi un po' particolari per quelli che erano i tempi dell'epoca oggi siamo andati ancora oltre è ancora più difficile e sul discorso ingaggi ne abbiamo parlato ieri c'è questo maxi condono per salvare il calcio in Serie A se ne sta parlando in questi giorni proprio in governo perché entro il 22 di dicembre le squadre di Serie A devono pagare degli anticipi IRPEF devono pagare dell'Inps devono pagare gli ingaggi e fanno un po' fatica e fanno un po' fatica che è un po' il discorso che in questi giorni sta venendo fuori sulla Juventus di due anni fa è tutto collegato ragazzi è tutto collegato poi del maxi condo non riguardisco non se ne sta parlando non riesco a capire perché sono contento che ieri Balza Gianni Balzerini abbia fatto il video sul suo canale parlando proprio di questa cosa qui e quindi niente discorso legato a Marotta potrebbe essere cioè nel senso non mi stupirebbe la Juventus ci ha spesso abituato a dei ritorni però poi allora mi chiedo Marotta torna perché? perché va via arriva bene? perché abbiamo la necessità di prendere Marotta? perché va a ricostruire lui la Juve insieme all'allenatore? cioè quale poi sarebbe l'utilità di Marotta? attenzione io torno a dire Marotta per me è più bravo in Italia a fare questo e all'addio di Marotta io ero tristissimo non me lo spiegavo anzi mi ero anche preoccupato e col senno di poi direi che la preoccupazione era fondata e anzi tante volte ho detto per me il problema nasce dall'addio di Marotta che non è mai stato sostituito adeguatamente è stato promosso paratici gli è stata data una responsabilità che probabilmente non aveva un modo di lavorare che non gli apparteneva credo che l'abbia spiegato molto bene Romeo Agresti in un video che ha pubblicato l'altro giorno e quindi quello secondo me è l'errore madre in casa Juve però oggi rimetterlo dentro perché ha funzionato prima di rimetterlo dentro io vorrei capire perché perché si vuole andare avanti con Allegri e quindi serve un gestore di moneta sonante tra virgolette interna alla Juventus con Cherubini che insieme ad Allegri decide i nomi dei calciatori e Marotta che dà la possibilità di approvare o meno e quindi è abile andare a parlare avanti alle telecamere perché in questo caso vi dico se si vuole proseguire il progetto tecnico con Allegri perché si vuole confermare bla 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 allora Marotta può avere un senso logico se si vuole iniziare un nuovo progetto tecnico con un allenatore diverso rispetto ad Allegri meno importante con meno trofei vinti quindi un ingaggio più basso quindi in grado di lavorare con della materia prima diversa anche con te stesso all'inizio l'abbiamo detto lavoravi in un certo modo poi vince Palmares si evolve e allora pretende altro cosa vuol fare la Juve? e questa è la domanda principale cosa vuol fare? qual è il progetto? qual è l'idea? perché da lì poi passa tutto il resto perché immaginarmi Marotta che ne so con un Dionisi un italiano un Tudor faccio un po' più fatica perché Marotta mi sembra perfetto come è perfetto Allegri in un contesto già vincente in cui va sempre solo ritoccato quel qualcosa senza preoccuparsi tanto del poi dobbiamo sistemare il bilancio dobbiamo mettere a posto dobbiamo pensare al futuro è questo che mi sto chiedendo Marotta l'Inter arriva l'Inter vuol vincere subito e l'Inter vince subito e va in quella direzione lì non sta pensando al futuro non sta ragionando su una next gen giocatori da inserire giocatori da rinnovare giocatori da seguire sono queste le cose Marotta è bravissimo a lavorare in quel senso ma la Juventus oggi sta andando in una direzione differente e ce lo sta spiegando nelle note di bilancio che pubblica sul sito ufficiale basta leggerle quindi qual è l'idea della Juventus perché se è quella di un certo tipo di futuro forse Marotta non è l'uomo giusto se davvero arriverà Marotta io posso aspettarmi o una conferma di Allegri perché come dicevo prima avrebbe senso in quella direzione o l'arrivo di un allenatore che comunque come Conte pretende e riesce a costruire nel breve fatemi un po' sapere la vostra qui sotto nei commenti